Anche quest'anno, come gli altri anni, si ripete ancora questa magnifica manifestazione per quanto riguarda la tradizione della nostra città Canicatì. Il 6 gennaio, ovvero come diversi anni, si è sempre organizzato questa festa folcloristica religiosa, ovvero le Tre Re. Come sempre inizierà intorno alle ore 17, partendo dalla villa comunale per poi proseguire a San Diego e andare verso la Regia di Erode che sarà allestita in Piazza 4 Novembre. Subito dopo l'incontro di Erode i Maggi proseguiranno fino a Piazza Indipendenza, ovvero Piazzale Parrocchia Santo Spirito, dove è allestita la Grotta Santa per l'adorazione dei Re Maggi al Bambin Gesù. Con questo voglio dire che ogni anno ci sono molti sacrifici per fare questa manifestazione, non solo i nostri, che naturalmente ci impegniamo ad organizzarla e andare a cercare le persone che ci possono aiutare, ma i sacrifici anche, in particolar modo quest'anno, della Giunta Comunale, ovvero capitanata dal Sindaco Vincenzo Corbo, e tutta la Giunta naturalmente la ringraziamo. Ringraziamo anche la scuderia dei fratelli Guccione che ci stanno omaggiando dei loro cavalli per poter risparmiare qualcosa e ripeto, solo così si può fare questa manifestazione, per non perdere alcune tradizioni della nostra città. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire un invito a tutti i nostri cittadini, e non solo, di starci vicino, vicino come? Con la loro presenza e aiutandoci, e non dire che queste feste non si devono perdere, però nello stesso tempo non si fa niente per aiutare queste feste. Quindi mi raccomando, giorno 6 alle 17, grossa partecipazione anche della città, perché la festa, e voglio sottolineare una cosa, perché alcuni dicono che questa festa è di Borgalino, in realtà è dalla città di Canicattino, non è solo di Borgalino, quindi invito tutti, non solo quelli di Borgalino, ma anche quelli di Viale della Vittoria e Zone Limitrofe.